Buongiorno ragazzi, oggi ho avuto un'idea bellissima. Sentite qua, mentre spolveravo e mettevo in ordine ieri, mi sono imbattuto in questo libro, che era un mio libro di quando ero piccolo, si chiama Pezzettino di Leo Leonni, ed è un libro molto speciale, perché non ci sono figure, ma solo colori praticamente. Guardate che bello, è la storia di Pezzettino, che è un Pezzettino di qualcosa, e si sente solo triste, perché i suoi amici fanno tante cose belle, e lui è piccolo e non sa che cosa fare, e decide di scoprire di chi è Pezzettino. Allora va dal suo amico che corre e gli chiede, sono un tuo Pezzettino? E lui gli risponde, no, come potrei correre così velocemente se mi mancasse un Pezzettino? Allora Pezzettino va da quello forte, e gli chiede, ma è solo un tuo Pezzetto? Quello forte gli risponde, no, come potrei essere così forte se mi mancasse un Pezzetto? Pezzettino va da quello che nuota, sono un tuo Pezzetto? E il pesce gli risponde, no, non potrei notare, stessa cosa da quello che sta sulle montagne, sono un tuo Pezzetto? No, non potrei arrampicarmi se mi mancasse un Pezzetto? Quello che vola gli risponde, che a lui non manca nessun Pezzetto perché non potrebbe volare. Pezzettino alla fine va da quello saggio che sta nella grotta e gli chiede, sono un tuo Pezzetto? E quello nella grotta gli risponde, guarda, fai così, vai nell'isola chi sono e capirai chi sei, di quale pezzo sei mancante. Così Pezzettino prende una barca e salpa per l'isola, attraversa un mare pieno di onde e finalmente arriva sull'isola, solo che sull'isola non c'è nessuno, ci sono solo delle rocce, tant'è che Pezzettino scivola e cosa succede? Si rompe in mille pezzi. Dopo essersi ricomposto, Pezzettino torna indietro, ritorna sulla barca, intanto viene notte e torna indietro, torna dai suoi amici e gli dice, io ho capito chi sono, io sono io, ed era felice. I loro amici hanno capito che Pezzettino era contento. Allora, la mia idea è questa qua, siccome noi avevamo iniziato un progetto di orto con gli amici bambini della scuola materna e poi l'abbiamo interrotto, potremmo fare loro un regalo reinterpretando questo libro, però ho bisogno della collaborazione di tutti, una cosa che potreste fare in questi giorni è questa, iniziare a raccogliere i pezzettini per comporre il nostro libro. Io qui ho un volantino dell'idol, potete prendere qualsiasi pezzo di foglio colorata, con un paio di forbici, iniziamo a ritagliare dei pezzetti di vari colori e poi li raggruppiamo. Una volta che li abbiamo tutti raccolti e messi da parte, quando torniamo al centro, assieme agli educatori, rifacciamo il libro, lo impaginiamo e poi lo regaliamo ai ragazzi e ai bambini del collodi. Cosa dite? È una bella idea? Con questa vi saluto.